Eccoci qua, ho pochi secondi per promuovere il mio film, il mio nuovo film, si intitola Dio è in pausa pranzo, un film da ridere, da schiantare, da ridere, un film da ridere appunto ma anche intelligente, sì perché fa pensare a un film pieno di studiosi, di cervelloni, di gente che la s'allunga, capito? Sì, ci sono anch'io! Sì, c'è anche lui, ma fa una comparsa. No, in realtà sono il protagonista, vorrei vedere questo stupendo documentario che mi spera, come cambiare vita e tornare a contatto con l'Eden, la foresta! Vabbè, lasciatelo stare, lasciatelo delirare! Dio è in pausa pranzo, dal 28 marzo al cinema! Perché i cinema esistono ancora! Certo che esistono ancora i cinema, anzi, i cinema esistono se esistete voi, il pubblico, quindi voi riempite la sala e il cinema esisterà per sempre! Vi aspetto! Perché ci sa che... Certo! Allora, venite a vedere questo documentario, vi spiegheremo come cambiare vita e tornare al vostro primordiale, il nuovo Eden! Vi aspetto! È un film! La situazione di Christie Che! 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 ! Grazie a tutti